Il progetto Italiana 2020 nasce in un momento storico dove tutto sembra essersi fermato. Dopo un anno di incertezze abbiamo deciso che il 2020 non sarebbe stato il nostro punto di arrivo, bensì il punto di partenza. Volevamo dare nuova energia alla filiera dell'artigianato toscano. Il nostro obiettivo è quello di far incontrare le eccellenze della pelletteria e della decorazione, dando vita a una nuova linea di prodotti in pelle unici e durevoli nel tempo.